Quale sarà la prossima mossa della Giunta per dimostrare che crede ancora nell'aeroporto delle Marche? La Giunta ha sempre creduto nell'aeroporto delle Marche. L'esito positivo, o almeno l'esito positivo circa all'apertura della procedura di concordato, va in questa direzione. Noi metteremo in campo tutte le iniziative necessarie per sostenere all'interno delle nostre competenze, senza invadere quelle di altri, tutte le azioni e le iniziative perché la procedura di concordato abbia esito positivo e all'esito mettere in campo un grande progetto di rinancio dell'aeroporto delle Marche.